Ho visto il torneo che vorrà partecipare, poi ci sarà un altro evento a cui siamo stati invitati Chi vuole fare il team leader al posto migliore stasera? Chi sei assente? Io non so Qualcuno sei assente? Preto? Preto 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 Fatto uno in testa? Preto Ok Fatto uno Fatto uno Non fanno fuori fatto Preto Preto Fatto uno in testa Fino adesso siamo andati bene comunque io mi sto Ma no Siamo in spawn Preto uno Non si può sparare in H1 Copertura Colpito però anche te ti hai colpito? No Mai arrivati qua Mai arrivati No ok Preto 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 Fatto uno Mi spari a me? Preto Mi spari a me? No no Mi spari a me? Mi spari a me? Che ragni? Mi spari a me? Mi spari a me? Che ragni? Grazie a tutti.